Hai un cervello normale? Scopriamolo insieme. Ti darò delle istruzioni e dovrai rispondere nel modo più veloce possibile. Iniziamo. Pensa a un numero da 1 a 10. Adesso raddoppia quel numero, aggiungi 8, dividilo per 2 e adesso sottrai il tuo numero iniziale con quello che hai ottenuto per la divisione. Ok, adesso quello che devi fare è prendere la lettera corrispondente dell'alfabeto al tuo numero. Ad esempio, se hai 9 prendi la I, se hai l'1 prendi la A e così via. Adesso scegli un paese che inizia con quella lettera. Tornando alle lettere, adesso è molto semplice. Dovrai prendere la seconda lettera dell'alfabeto. Ad esempio, se la prima lettera era per esempio A, dovrai prendere B. E adesso scegli un animale che inizia con la seconda lettera. Adesso dovrai scegliere il colore di quell'animale, giusto per avere un po' di variazione. Bene, hai fatto. Se quello che hai scelto è un elefante dalla Danimarca, sei una persona abbastanza normale.